Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Il mio governo Meloni, attraverso una nuova legge di bilancio che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri, ha rinnovato il sistema della rivalutazione delle pensioni. Infatti, dal 2023 le pensioni saranno rivalutate secondo nuovi parametri. Nel video che segue vediamo le 6 nuove soglie di rivalutazione delle pensioni per il biennio 2023-2024. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale naturalmente, è tutto gratuito. Nel 2023, con la rivalutazione a 7,3%, ormai abbiamo appreso che avremo un aumento delle pensioni minime di circa 38 euro netti al mese, fino a circa 178,50 euro lordi in più per le pensioni di 7.000 euro. Come dicevamo a inizio video, ora ci concentriamo sulle 6 nuove soglie di rivalutazione delle pensioni per quanto riguarda il biennio 2023-2024. Partiamo con le pensioni fino a 2.100 euro lordi al mese, la rivalutazione sarà piena, ovvero del 100%. Per le pensioni invece che andranno da 2.101 euro a 2.625 euro lordi al mese, la rivalutazione scenderà all'80%. Per le pensioni da 2.626 a 3.150 euro lordi al mese, si scende al 55%. Pensioni da 3.151 a 4.200 euro lordi al mese, invece si passerà a esattamente la metà, ovvero il 50%. Per le pensioni da 4.201 a 5.250 euro lordi al mese, si scenderà invece la soglia del 40%. E infine l'ultima soglia, ovvero la sesta, per le pensioni con un importo superiore a 5.250 euro lordi al mese, si scende al 35%. Ricordiamo infine che per le pensioni minime è stato previsto una sorta di bonus del 20%. La rivalutazione per tali pensioni infatti arriverà al 120%, portando le pensioni minime a quasi 600 euro, per esattezza 570 euro mensili. In ogni caso a subire negativamente gli effetti di questa nuova rivalutazione saranno gli assegni dai 2.101 euro a salire. Voi cosa ne pensate a riguardo? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene e anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!